Volevo soltanto dare il microfono a Fiorello, Fiorello il microfono a te, ciao come state, tutto bene, la telecamera è qua, domani saremo ospiti a Sanremo, speriamo di divertirci, dai che in bel Sanremo, su non ve lamentate, ai quattro, grazie, saluti a Tommaso, è una grande invenzione Tommaso, grazie.